Oggi ragazzi andremo a parlare di consigli di fantacalcio come al solito e soprattutto vi spiegherò un argomento molto interessante ma molto delicato allo stesso tempo. Una strategia che non tutti utilizzano e magari tanti di voi non conoscono soprattutto se sono neofiti, alcuni invece sì se sono più esperti perché è una tattica, è una strategia che viene adottata proprio grazie all'alternanza del calendario favorevole con le squadre e con i giocatori che possono essere incastrati non solo in porta ma anche a centrocampo, in difesa e in attacco. L'importante è che abbiano un calendario a favore e quindi queste squadre con l'alternanza casa e fuori casa abbiano delle partite semplici per poter girare gli stessi giocatori delle vostre rose dentro la squadra stessa ogni settimana. Non vi voglio complicare le cose quindi vi andrò a fare degli esempi e oggi parleremo proprio degli attaccanti che sono un argomento molto delicato perché portano bonus perché portano situazioni favorevoli al fantallenatore ma allo stesso tempo bisogna essere molto attenti a formare un bel tridente con riserve interessanti, intelligenti perché devi dare profondità al tuo reparto proprio perché se ti si infortunia qualcuno durante la stagione e purtroppo può capitare devi avere delle alternative molto interessanti allo stesso tempo che ti possano portare dei bonus. Quindi capite bene che tre attaccanti da mettere lì e da incastrare bene insieme e con altri attaccanti magari low cost può fare la differenza a lungo andare e durante la stagione. Prima di cominciare però ragazzi vi ricordo che qui sotto in descrizione nel primo link c'è Fanta Lab, vi potete iscrivere gratuitamente nel migliore tool per il fantacalcio e soprattutto potrete già dare un'occhiata a tutte le statistiche a tutte le funzionalità di questo speciale tool proprio per prepararvi al meglio all'asta visto che ci siamo siamo arrivati e tanti di voi avranno magari già la prossima settimana all'asta oppure in questi giorni quindi preparatevi al meglio perché sono uscite anche le mie fasce di conseguenza andatevele a studiare se siete abbonati del canale e avete il fanta lab premium che vi ricordo comunque potete fare a 9 euro e 99 all'anno con questo link qui sotto sono già disponibili per tutti voi per vedere i prezzi medi per vedere quanto spendere al massimo ho messo tutte le mie note tutte le esche tutte le descrizioni tutto quello che vi può servire veramente per non sbagliare l'asta quindi cari ragazzi ve lo ricordo ancora fanta lab primo link in descrizione iniziamo con gli esempi degli attaccanti da poter comprare per il calendario e allora vi voglio subito dire qualche nome soprattutto oggi andremo a fare 4 tris di attaccanti che potrebbero farvi la differenza e vi andrò a dire qualche cifra in modo da farvi rendere l'idea di che cosa voglio fare e quali esempi possono essere migliori per la costruzione della rosa i fattori principali sono intanto il regolamento della vostra fanta lega che è fondamentale perché se c'è il mod di difesa se non c'è il mod se c'è quello dinamico se c'è quello classico ovviamente cambia tutta la costruzione della squadra stessa e di conseguenza determinati giocatori non si possono andare a comprare perché costano troppo perché sono in hype questo vale sia per la difesa per il centrocampo e per l'attacco oggi quello che ci interessa di più è proprio quest'ultimo reparto dopodiché sarà importante anche capire cosa volete fare perché l'equilibrio è alla base di tutto e anche avere più alternative quindi comprare una rosa con tanti giocatori senza doppioni e senza coppie è la cosa fondamentale come avevo detto già in altri video che comunque vi consiglio di andare a vedere proprio per rendervi conto sia della costruzione della squadra sia per come si strutturano certi reparti dobbiamo fare degli abbinamenti intelligenti e subentra come vi dicevo inizio video proprio il calendario perché noi andiamo ad incastrare degli attaccanti che hanno delle partite sulla carta semplici e di conseguenza si possono schierare sia due sia tre a seconda del modulo che andiamo ad utilizzare facciamo degli esempi e partiamo dal primo un tridente fattibile con una spesa stimata intorno al 40 per cento o poco più a seconda sempre del numero dei partecipanti e delle come dicevamo prima in questo caso il primo tridente che vi consiglio è roma como lecce e di conseguenza dibala belotti cristovic giocatori molto interessanti nelle rispettive squadre in questo caso diamo profondità perché comunque possono essere un primo e due terzi slot visto che non possiamo fare un attacco con attaccanti troppo importanti abbiamo un budget stimato dal 50 al 55 per cento noi con questi tre giocatori andiamo già a spendere il 40 per cento del budget quindi avremmo poi 10 15 punti percentuali per sostituire eventualmente i nostri tre titolari con qualche giocatore low cost interessante o comunque con un attaccante medio vi potrei proporre anche altri tre giocatori che secondo me possono andare in che sono appunto lazio torino udinese con giocatori del calibro di noslin zapata e lucca e se ci pensiamo bene sono molto interessanti come tridenti tutto sommato sono giocatori che possono arrivare in doppia cifra quantomeno 2 su 3 e in questo caso parlo di lucca e zapata mentre per noslin potrebbe essere doppia tra gol e assist e comunque dei buoni voti un altro trist che a me intrigherebbe tantissimo sarebbe juve parma venezia mica male per un triste attacco comunque da poter girare durante la stagione blau which in questo caso ragazzi non vi c'entra dipende tantissimo dalle dinamiche di asta finiamo con l'ultimo e poi ve ne voglio dare uno bonus perché ve lo siete meritati se siete arrivati fino in fondo e quindi vado con juve napoli venezia e di conseguenza rimetto di nuovo il diz varaskelia e poi an palo il prezzo stimato qui sicuramente si alza e quindi questo attacco potreste provare a prenderlo solamente se siete chip leader o comunque se avete fatto una grandissima asta e avete messo alle strette negli altri reparti proprio i vostri avversari con chiamate giuste con rialzi giusti e soprattutto con una strategia vincente l'ultimo tridente bonus ve lo voglio proprio dire è inter atalanta udinese questo sicuramente potreste arrivare proprio al limite del vostro budget sforando anche il 55 per cento quindi non è consigliabile perché credo non sia fattibile ma comunque ci potete provare perché se riuscite a stare sotto al 50 per cento e siete come vi dicevo anche prima chip leader con il 60 per cento o con il 57 58 per cento del vostro budget potreste provare a rischiare se vedete che state sforando ragazzi non andate con queste cifre è sconsigliato quindi è per questo che vi dico dovete sempre avere una strategia ben precisa ben definita e soprattutto dovete essere lucidi fino in fondo fino agli attaccanti perché alcune volte anzi molto spesso nelle aste i fantallenatori tendono a lasciarsi andare proprio alla fine dell'asta perché subentra la stanchezza perché subentra la frustrazione subentrano tanti fattori che se non controllati possono fare la differenza in negativo o in positivo ritornando a noi però vi dicevo questo tridente inter atalanta udinese può essere molto intrigante andando a prendere giocatori come turam lockman e lucca se non riuscite perché troppo alta come vi dicevo potete sostituire comunque questi attaccanti e questi tipi di giocatori proprio per avviare il reparto nel migliore dei modi con un primo secondo e terzo slot abbastanza interessanti e concludere con tre giocatori low cost o comunque uno più due formato da un titolare e due scommessine sempre però che giochino o che comunque possano entrare non andate a fare un attacco con gli ultimi due slot o l'ultimo slot solo di riempimento sarebbe veramente un harakiri incredibile non lo fate state sempre con la testa sulle spalle e anche l'ultimo slot dell'attacco deve essere funzionale alla vostra squadra e alla costruzione della vostra rosa spero che questo video vi sia piaciuto e spero che sia stato anche ben spiegato perché comunque l'importanza del calendario è fondamentale in tutti i reparti non solo nei portieri come dicevamo all'inizio se vi è piaciuto questo video lasciate like e iscrivetevi attivando la campanella e soprattutto se arriviamo almeno a 40 like vi porterò altri tridenti del centrocampo e poi passeremo alla difesa sta a voi ragazzi e come sempre buon fantacalcio